E bisogna reagire, bisogna reagire collaborando tutti perché il lavoro si crea attraverso un moto che coinvolge tutti perché il lavoro si costruisce non con una delibera, si costruisce con uno stimolo agli investitori stranieri italiani a investire e anche investitori umbri così come ogni regione. Quindi questo è importante, è solo la cooperazione, è solo guardare in faccia la realtà e saper costruire il contrario di quello che avviene. L'unificazione è importante, c'è Chini, Fernanda che è venuta qui, ma noi abbiamo citato dei numeri, i numeri dei numeri, sentire questi numeri vuol dire essere menagrammi. Abbiamo sempre cercato da un messaggio di speranza, gli iscritti ci ha chiamato un po' menagrammi. La sera c'ho un gatto nero, ho visto che si toccava, ha sempre messo al centro un comportamento, gli dico un grande grazie e spero che tutti qui dall'Umbria hanno un grande mandato per far sì che le sfide del futuro le vedano ancora grandi protagonisti, grazie. Nella sede della FAI dove lui riunisce la SAS, Daria è una di quelle strutture che le SAS le costituisce e le fa funzioni. Questo piatto dove c'è scritto Ferve. Prima di dare la parola a Raffaele, Raffaele è un fuori programma. E te però vuole presentarlo? Che lavora nella Brunifica e io non sono né laureato nei regionali e territoriali per avermi messo.